79 minuti e più di 80.000 parole. Il primo discorso sullo Stato dell'Unione della Presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha toccato una moltitudine di temi, come l'ambiente, il digitale e le immigrazioni. Accanto alla revisione degli ultimi mesi, qualche proposta per il futuro. Von der Leyen ha rilanciato più volte l'importanza del Parlamento europeo nel proporre soluzioni nuove, come un salario minimo a livello comunitario. David Sassoli, Presidente del Parlamento europeo, è rimasto soddisfatto del discorso di von der Leyen. Adesso ho bisogno di non fermarci, è il messaggio della Presidente von der Leyen che raccogliamo volentieri, perché abbiamo bisogno soprattutto di riconciliare l'Europa alla vita concreta dei cittadini e alle loro difficoltà. Reazioni miste invece per le delegazioni italiane. Il centrodestra non è convinto del lavoro svolto fin qui dalla Commissione, ha spiegato il leghista Marco Campomenosi. Non mi è piaciuta l'assenza totale di autocritica rispetto agli errori della Commissione europea, perché se siamo nella situazione attuale, se già prima dell'emergenza Covid l'Europa era il continente la cui economia cresceva meno nel mondo, è anche perché si erano sbagliate politiche economiche e accordi commerciali che hanno danneggiato il nostro saper fare nel mondo. Soddisfazione dall'altro lato dell'emiciclo, con l'euro parlamentare del Partito Democratico Alessandra Moretti, che ha sottolineato l'importanza di temi come il lavoro e le migrazioni. Un intervento molto appassionato, molto determinato, con cui la Presidente ha dato delle notizie molto importanti. Dopo aver fatto un'analisi di quello che l'Europa ha fatto fin qui per lottare contro la pandemia, ha affermato la volontà di cambiare il regolamento di Dublino, quindi una politica sull'immigrazione che cambi completamente il volto dell'Europa, che diventerà un'Europa davvero solidale e corresponsabile. A luglio 2020 la produzione industriale è aumentata del 4,1% sia nell'area dell'euro che nell'Unione Europea rispetto al mese precedente, secondo le stime di Eurostat. A giugno l'aumento rispetto a maggio era stato del 9,5% nell'eurozona e del 9,6% nell'UE. Su base annua la produzione industriale a luglio è diminuita del 7,7% nell'area dell'euro e del 7,3% nell'Unione Europea. Nel secondo trimestre del 2020, secondo i dati Eurostat, il costo orario del lavoro è aumentato del 4,2% nell'area dell'euro e del 4,1% nell'Unione Europea rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. Nell'area dell'euro il costo di salari e stipendi per ora lavorata sono cresciuti del 5,2% e la componente non salariare è cresciuta dello 0,8%. Nell'UE invece i costi delle retribuzioni orarie e salari sono aumentati del 5,3% e la componente non salariare è aumentata dello 0,1%. Sia nell'UE che nell'area dell'euro l'aumento dei costi salariari orari indica che la diminuzione del numero di ore lavorate a causa della crisi Covid non sono state completamente compensate da una corrispondente diminuzione dei salari. A luglio, secondo i dati dell'Associazione Europea dei costruttori d'auto, le matricolazioni di nuove vetture nell'Unione Europea hanno registrato un calo relativamente contenuto del 5,7% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Sette dei 27 Stati membri hanno registrato una crescita tra cui Francia e Spagna. Durante il mese di agosto tuttavia il mercato automobilistico dell'UE ha registrato nuovamente un calo più marcato, meno 18,9%, anche se meno drammatico rispetto all'inizio dell'anno. Nei primi otto mesi del 2020 la domanda dell'UE di autovetture è diminuita del 32%.